ciao ragazzi sono matteo della libreria sapere ubic e sono il vostro book advisor anche per questo nuovo romanzo sempre per avere spunti per nuove letture per quest'estate o per qualsiasi momento vogliate dedicare alla lettura delle letture diverse magari particolari romanzi meno conosciuti quello che vi volevo consigliare oggi è più in alto del giorno di valentina oregno che è un romanzo che ci è piaciuto tantissimo perché è una avventura in estate di questo gruppo di ragazzi la protagonista è mimì una ragazzina tredicenne che si trova a passare un'estate in un piccolo paese che sembra essere il posto più noioso del mondo per lei in quel preciso momento però trova l'amicizia e qualcosa in più dell'amicizia stessa però durante queste avventure in questa lunga estate scoprono anche un segreto di questa piccola cittadina un ragazzo migrante nascosto in un casolare fuori dal paese che non vuole essere trovato e questo segreto che lei serva con i suoi amici sarà il motivo che rinsalderà la loro amicizia e che però ovviamente li porrà di fronte a grandi difficoltà il motivo per cui leggere questo romanzo innanzitutto è perché è una storia estremamente tremendamente attuale soprattutto vedere ragazzi così giovani confrontarsi con la crudeltà a volte della nostra realtà della nostra quotidianità ci fa capire come sia veramente importante leggere storie del genere per familiarizzare anche con questi problemi e con queste e con queste dinamiche e poi perché è una bellissima storia ambientata in estate una storia di avventura una storia di amicizia una storia d'amore è veramente un romanzo di quelli che restano restano addosso e ci si ricorda iscriviti al nostro canale